Ciao a tutti, ringrazio per l'invito, io di fatto non sono un tecnico e ci capisco molto poco di economia, a Radio 24 non lo hanno ancora scoperto e quindi continuo a fare le mie cose, però da mannetto, dopo aver studiato tutto il concetto di start up, un programma che faccio sull'Europa da mannetto lavoro sul crowdfunding, che vuol dire raccolta di fondi dal passo di fatto, rendere partecipo una collettività per finanziare quello che diciamo noi un sogno, sogni che costano tanto però con l'aiuto di pochi si può ottenere questo tanto, non è una colletta però, nel senso che il crowdfunding richiede una forte responsabilità che è quella di condividere, che credo sia un po' la parola chiave anche per avere poi un impatto sul territorio, nel senso che chi finanzia con poco o con molto vuole poi essere partecipe, a volte perché ha anche dei ritorni economici, perché c'è un indotto, perché diventa piccolazionista della cosa, ma quello che viene chiesto è proprio la partecipazione nel senso di capire quello che sta succedendo, il crowdfunding nasce soprattutto grazie alle piattaforme a internet, alle piattaforme che ci sono sulla rete e la rete ha tra le sue parole chiave proprio la condivisione, il sharing e questa cosa diventa un elemento fondamentale del crowdfunding che non basta quindi lanciare un progetto, raccogliere i soldi e poi salutare, ma qual è proprio il punto di partenza, cioè quando ricevi soldi e quando riesci ad avere un minimo di finanziamento con cui partire diventa il punto di partenza anche nella condivisione con chi ha compartecipato a quel sogno. Io racconto storie di crowdfunding e sono progetti molto volte vicini al concetto di utopia, vicini anche al concetto di follia, quella follia sana che ti permette di andare al di là dell'asticella, però credo che il crowdfunding sia proprio una piccola molla per chi ha voglia di osare, poi se l'osare sia una piccola azienda che nasce o sia un viaggio in monopattino in giro per il mondo, a me che faccio il narratore di queste storie poco interessa, però c'è veramente un nocciolo che è fondamentale, che è quello della condivisione, credo che chi ha voluto questo posto ci creda molto. Due cose che mi interessano, interessa buttare come sassolini, poi anche per la chiacchierata di dopo, ho visto un sacco di start-up nascere, un sacco di start e pochissime app e credo che un luogo come questo debba proprio concentrarsi sul concetto di app. Partire è facile, fare il passetto dopo, perché tutti ti aiutano a partire, o comunque in tanti ti aiutano a partire, poi in pochi ti prendono per mano con competenze, con dritte, con consigli, con incoraggiamento, con vedere al di là della partenza e credo che qui dove il crowdfunding è una ricerca non solo di soldi ma anche forse soprattutto di teste, di competenze, di consigli sia fondamentale questa cosa. La seconda è quella sulla comunicazione, tante parole inglesi, tante parole belle che suonano bene, è fondamentale poi farsi capire, è importante raccontare quello che si fa, dove si vuole andare, cosa si sta combinando, perché sennò nasce un muro e se nasce un muro ci risiamo, non riesco a far condividere il mio sogno con le persone a cui sto chiedendo aiuto. Quindi avere l'umiltà di farsi capire, che vuol dire non parlare solo ai addetti ai lavori, vuol dire non usare solo i termini che fanno tendenza in quel momento, avere la pazienza magari di spendere un minuto in più per raccontare e far vedere quel sogno che si ha in testa. Tutto qua, grazie e buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille.